Salve, sono Pietro Gennai, sono un diacono di Poggibonsi della parrocchia di San Giuseppe. Sono contento di avere l'opportunità di commentare insieme il Vangelo di Luca, al capitolo 10, i primi nove versetti, che ora leggeremo. Dal Vangelo di Luca Dopo questi fatti, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due e a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro, la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima di te, pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro, è vicino a voi il regno di Dio. E' importante questo brano del Vangelo perché Gesù dà istruzioni e insegnamenti che valgono per i discepoli di ogni tempo. Dirò alcune cose che mi sembrano più importanti, mentre solvolerò su altre. Inizia il brano. Il Signore designò altri 72. Altri. Perché dice altri? Evidentemente perché c'è già stato un altro invio. E infatti Luca parla nel capitolo precedente che c'è stato l'invio dei dodici, gli apostoli. Allora viene da domandarci, ma allora che sono questi 72? Ovviamente sono i discepoli che stanno già seguendo Gesù. Ma il numero 72 è un numero particolare, un numero strano. In questo ci vengono in aiuto i bibristi, gli studiosi, dicendoci che è un numero che può avere una simbologia. Infatti nel libro della Genesi si menzionano 72 nazioni. 72 nazioni diverse per indicare la totalità del genere umano. Quindi questo numero ha una simbologia che rimanda alla totalità. Se così è, questo invito prefigura la missione di tutta la Chiesa ad annunciare il Vangelo. E questo riguarda tutti i discepoli di Cristo, tutti i battezzati. L'invio non riguarda solo gli apostoli, i capi, le guide, ma tutti i credenti. Continua il Vangelo dicendo Ecco, possiamo dire che li invia ad annunciare il suo arrivo, la sua presenza. Chi vuole lo può incontrare. Ogni discepolo, allora, è inviato ad annunciare il Signore presente, che si fa compagno di strada. Un Signore che d'ora in avanti, se tu vuoi, può essere presente nella tua vita. E diceva loro La Messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della Messe. Un altro primario insegnamento che possiamo trarre è l'importanza della preghiera. Anche Papa Francesco ce lo ricorda e dice Sempre dobbiamo pregare il padrone della Messe, cioè Dio Padre, perché mandi operai a lavorare nel suo campo, che è il mondo. Ciascuno di noi lo deve fare con cuore aperto, con atteggiamento missionario. La nostra preghiera non deve essere limitata solo ai nostri bisogni. Una preghiera è veramente cristiana se ha anche una dimensione universale. E poi vi sarete accorti che Gesù non dice in primo luogo che cosa dire, ma insegna come vivere, come essere, come starci nell'invio ricevuto. E dà una serie di precise istruzioni che vi elenco velocemente. Il discepolo non appoggia la sua sicurezza su ciò che ha e su ciò che è, la sua bravura per intendersi. La sua fiducia è tutta nel Signore. È il Signore, è soltanto Lui che farà riuscire l'annuncio del discepolo. Non si perde in discorsi inutili. Il discepolo, ancora, la prima cosa che fa, porta la pace e la benedizione del Signore per una vita benedetta da Dio. Ed è un grande dono che il discepolo fa a chi incontra. Il discepolo non avanza pretese, non ricerca comodità, vive con sobrietà. Dice anche, il discepolo non sia incostante, uno che non ha e non trova stabilità. E poi c'è il versetto finale, che è importante. Quando entrate in una città, guarite i malati che vi si trovano e dite loro, è vicino a voi il regno di Dio. In quella città, che potrebbe essere anche quella in cui vivete, anzi, per noi è proprio quella in cui viviamo, in quella città, tra quelle famiglie, interessatevi ai più deboli, ci dice il Signore. Cercateli e guariteli. Attenzione, non c'è solo la guarigione fisica. Questo guariteli vuol dire soprattutto fai giungere loro, in quella situazione, un motivo di speranza. E come si fa? Fagli arrivare al cuore, quindi non agli orecchi con la parola, semplicemente, ma al cuore, non sei solo. Ecco, c'è che ci permette di dire questo. E' la nostra presenza. Con la tua presenza, accanto a Lui, gli dici questo. Il più debole potrebbe essere anche il più debole del gruppo degli amici, l'ultimo arrivato nel gruppo parrocchiale, un compagno bullizzato, ma anche l'immigrato, il barbone, le persone che nessuno prende in considerazione. La tua presenza, accanto a quel povero, al malato, ci dice il Signore, si senta, si veda, sia significativa come quella di Gesù. Che fa Gesù? Pensiamo agli incontri di Gesù. Mettiamoci nei panni delle persone che hanno incontrato Gesù. Prima di tutto, la sua presenza è una presenza premurosa, attenta, senza pregiudizi, che non chiede niente. E' questo quello che guarisce e che rende affascinante Gesù. E mi accorgo anche della necessità che ho di conoscere meglio Gesù, quindi di mettermi in ascolto della sua parola. Ancora una considerazione. Abbiamo visto che ogni discepolo è chiamato a precedere il Signore. Chiediamoci, oggi, 2021, dove vuole che io lo preceda per annunciarlo? Quali sono i villaggi, i luoghi, dove anch'io discepolo di oggi sono inviato? Questi luoghi sono là dove io vivo, là dove tu vivi. La famiglia, i compagni di scuola, di lavoro, gli amici, il gruppo sportivo, il gruppo parrocchiare o il gruppo del pub, nell'associazione, le persone del condominio, nel quartiere, le persone della città dove abito. E così si potrebbe continuare. Sono inviato per tutte le relazioni che vivo in questi ambiti. E non mi manda da solo, ma a due a due. La proposta cristiana è accogliere l'amore gratuito del Padre, riconoscendosi tutti i fratelli, e vivere così nuove relazioni improntate all'amore con Dio e con gli altri. Quindi, testimone credibile può essere solo chi già vive questa novità di vita. Ecco perché ci manda a due a due. Bene, vi ringrazio per l'ascolto e vi vi ho un caro saluto ricordandovi l'hashtag io resto con te. Se il commento al Vangelo ti è piaciuto clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della Pastorale Giovannire dell'Arcidiocesi di Siena Colle di Valdelsa Montalcino Grazie a tutti.